Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente raggiunto un accordo definitivo riguardo al loro divorzio, mettendo fine a mesi di incertezze e speculazioni. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, segnando un importante passo verso la serenità per entrambi, soprattutto per la gestione dei loro figli, Leone e Vittoria. Gli avvocati della coppia hanno confermato che l'accordo di separazione è stato firmato, ponendo fine a voci e rumors. Tra le questioni affrontate nell'accordo spicca quella relativa al mantenimento dei figli. Contrariamente alle ipotesi precedenti, Fedez non verserà alcun assegno mensile per il sostentamento dei bambini, poiché Chiara è in grado di provvedere alle loro necessità grazie alla sua carriera di imprenditrice digitale. Tuttavia, entrambi i genitori si occuperanno del mantenimento dei figli in base ai periodi di custodia concordati. Un altro aspetto significativo dell'accordo riguarda l'esposizione dei minori sui social media. I genitori hanno concordato di richiedere reciprocamente l'autorizzazione prima di pubblicare contenuti che riguardano Leone e Vittoria, riflettendo un cambiamento nella gestione della privacy e del benessere dei minori. Con la firma di questo accordo, Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver chiuso un capitolo difficile della loro vita. Ora possono concentrarsi sul benessere dei loro figli e su una co-genitorialità serena. Nonostante le tensioni del passato, entrambi continuano a essere figure di riferimento nel panorama social, con il loro percorso personale e professionale seguito con interesse. Resta da vedere se riusciranno a mantenere questa tregua e vita.